Resta stabile l'andamento della curva dei contagi da coronavirus in Puglia. Secondo le informazioni fornite dal bollettino aggiornato diramato dalla regione, sono 13 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di oggi, mercoledì 20 maggio, mentre sono stati eseguiti complessivamente 2061 test diagnostici per il covid-19. La lista dei malati si allunga in 5 delle 6 province pugliesi. Un nuovo infetto a Bari, 2 a Foggia, 6 a Brindisi, 2 nella Bat ed 1 a Taranto, mentre per un ulteriore caso è ancora in corso l'attribuzione del territorio di provenienza. 0 nuovi casi invece per la provincia di Lecce. Il totale dei contagi pugliesi sale così a 4.407. Anche oggi il virus purtroppo fa segnare altre vittime, 5 i morti nelle ultime 24 ore, 1 in provincia di Foggia, 2 a Brindisi e altrettanti a Lecce, per un bilancio complessivo pari a 479 decessi. A controbilanciare i dati su contagi e vittime ci sono però le notizie relative ai guariti che ormai hanno oltrepassato la soglia dei 2.000 e si confermano nettamente più dei malati con uno scarto superiori ai 100. I positivi nella regione, secondo quanto riportato dal bollettino della protezione civile nazionale, sono infatti al momento 1.902. Di questi 242 sono attualmente ricoverati con sintomi, 21 si trovano in terapia intensiva, mentre i restanti 1.639 infetti stanno affrontando il decorso della malattia in isolamento domiciliare.